Ciao ragazzi, siamo tornati qui, sono Null oggi faremo una nuova recensione di la partita di calcio l'ha scritto Gerard Van Gemmerd e l'ha illustrato Mark Jansen adesso vi leggo le prime tre righe vi presento una squadra di calcio molto particolare infatti i sette giocatori vengono da tutti i paesi diversi si chiama Le Protti Corriosi AS la storia racconta che questi bambini arrivano da tutto il mondo e uno arriva dal Messico dovevano fare una partita il sombrero del Messicano gli porta la fortuna però quella partita aveva perso il sombrero e stavano perdendo 1-0 con un autogol e alla fine come finirà? lo lascio scoprire a voi mi farò vedere delle immagini che ci sono tante qua se avete un occhio svelto si intravede già il sombrero che dove c'è l'ultima foto dell'autogol la foto dell'autogol comunque il libro ve lo consiglio è molto bello è divertente anche un po' perché è l'autogol insomma lasciate un like ciao